Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Gorizia 7, vi presento subito l'ospite di oggi, è tornato a trovarci consigliere regionale del Partito Democratico Diego Moretti. Buongiorno, bentornato. Si parla molto dell'isotino ma non soltanto per quanto riguarda la regione, in particolare per quanto riguarda i controlli, la sicurezza, questo è l'argomento che sta tenendo banco in questo periodo, in particolare a Monfalcone, lei è stato autore di un intervento oggi abbastanza duro, verso la presentazione da parte del sindaco Cisint del drone, il drone finanziato appunto dalla regione con fondi regionali per la sicurezza che sarà in dotazione alla polizia locale di Monfalcone. Così sembra. Ecco, così sembra. Come mai insomma… Ma allora io credo che ci sono delle priorità all'interno di una comunità locale, di una comunità anche regionale. Allora già abbiamo contestato su tempo i 3 milioni e mezzo, 4 milioni e mezzo messe sulle telecamere in tre anni da parte dell'amministrazione regionale. E ci sembra che questo intervento sia eccessivo rispetto alla giusta attenzione che un'amministrazione pubblica deve riservare al tema della sicurezza. Perché poi quelle telecamere una volta installate, lo dico da ex amministratore comunale, poi vanno controllate, vanno seguite, non si può pensare che sono lì solo da deterrente. Sono un deterrente ma non sempre. E quindi ci pare che poi quando i comuni legittimamente vanno ad acquistare attrezzature che francamente, di cui francamente non si sente la necessità. Se no, un drone che va al calore termico, si vede da un chilometro di altezza, vede fino a 5 chilometri oltre, mi pare che francamente non sia una priorità. Anche perché questo è un tema che va a incidere anche sulla privacy, perché vanno definiti i contoni nei quali applicare questo strumento. Serve solo per l'antincendio boschivo come viene segnalato, serve solo per la ricerca di persone scomparse o serve anche per monitorare il territorio senza alcuna garanzia di riservatezza da parte del cittadino. Perché il delinquente è delinquente e va perseguito. Punto. Non è questo la discussione. Ma credo che ci sono anche dei diritti individuali del cittadino che vanno in qualche maniera tutelati. E onestamente io vedo solo tanta propaganda ma poi alla fine dei risultati pochi. Lo stesso si dica per le fototrappole. Ecco, questo è l'annuncio del drone, fa un po' il paio con le fototrappole, ancora con un termine che ha un impatto anche maggiore, insomma, più importante. Assolutamente. Ecco, per fototrappole per individuare i migranti irregolari che ci sono, che passano attraverso il nostro territorio regionale. Allora, nessuno disconosce il fatto che i confini vanno monitorati. Tant'è che anche il nuovo governo ha reiterato l'accordo delle patuglie miste con la Slovenia, che peraltro apporta poco a livello di poliziotti. Però anche qua, fototrappole. Io le fototrappole le conoscevo perché servono a segnalare la presenza di fare una selvatica di un cinghiale, di un lupo. E serve per la caccia a quel tipo di animale. Pensarlo alle persone. Poi, che utilizzo si fa di queste fototrappole? La patuglia va subito alla ricerca di queste persone. Poi un'altra fototrappola scatta a 20 km di distanza, 5 km di distanza, su un confine enorme. Certo. E di fronte a una situazione che in primo luogo competa lo Stato. Per cui eventualmente tu, Regione, prima di fare queste sparate vai a parlare con lo Stato, con Codi. Una misura di un certo tipo, io non condivido né questa, né il muro. Del muro stranamente non se ne parla più. Non si parla più, però era stato annunciato. Esatto, era stato strombazzato, tre giorni, come fa la Lega ultimamente. Grandi discussioni, grandi annunci, tre giorni, poi tutto tace. Tant'è vero che lo stesso Salvini di immigrazione non parla più. Parla di altro, non di immigrazione. Allora io vedo solo in queste azioni propaganda. Allora è difficile anche intervenire, se non per respingere. Ma proprio il tipo di impostazione ideologica che si ha di questi problemi. Fra l'altro diceva, non è competenza della Regione occuparsi appunto della dotazione, insomma. La tutela dei confini è competenza dello Stato. Eventualmente concorda con lo Stato. Quali iniziative fare? Piuttosto che mandino al confine orientale più forze dell'Odine. Adesso le forze dell'Odine, faccio una piccola altra parentesi, apro, gran parte sono impegnate al CPR di la disca. Ecco che ha aperto i battenti da poco tempo, però già abbiamo assistito ad esempio a fughe da parte di persone che erano state chiuse, insomma anche nonostante tutte le telecamere. Guardi, ho letto che ci sono quasi 200 telecamere. Ecco, 200. Qualche giorno fa, ma accade spesso, 8 se ne sono andati, sono stati ripresi 5, 2 nelle vicinanze, 3 a Palmanova. Cioè, anche qua... Alcuni non sono stati più trovati. Non sono stati più trovati, sono che vagano da, questi sì, da clandestini. Anche qua, insomma, il giornale locale qualche giorno fa ha fatto un bellissimo reportage proprio sul CPR dove è evidenziato il problema che, uno, i poliziotti sono a vigilare una struttura che non è un carcere, formalmente, ma che di fatto è un carcere. La seconda questione che, insomma, gli ospiti in attesa di rimpatrio sono, si fanno autolesionismo, eccetera, eccetera, per cui... Si riassiste a episodi del CIE, no, per cui arriva l'operatore del 112, addirittura questo viene aggredito per fare il suo lavoro e portare il soccorso a queste persone e dall'altro, e non ultimo, ma questione abbastanza importante, il fatto che con la nuova disposizione per cui il rimborso, i famosi 35 euro, sono diventati 21, 28, adesso poi dipende, di fatto gli operatori prendono paghe da fame perché i servizi che si possono fare in quella situazione sono minimi e tutti i servizi annessi per quanto riguarda il CARA, per quanto riguarda il CPR, sono notevolmente diminuiti. La spesa è stata anche diminuita, no? Certo, ma è naturale che sia così, perché quando tu cambi le condizioni e pretendi da chi fa quel servizio, da chi gestisce quella struttura, un determinato servizio, non puoi pretendere di avere quello di prima con condizioni molto diverse. Moretti, a Gradisca non c'è solo il CPR, il centro per i rimpatri, che appunto ha aperto i battenti da poco tempo a dicembre e continua ad esserci il CARA, che è il centro per richiedenti asilo che continua a funzionare. Ricordo che il sindaco di Gradisca, Tomasisi, ci aveva chiesto a suo tempo insomma almeno l'eliminazione di uno dei due centri per non avere un impatto nuovamente molto forte, molto importante su una comunità che è comunque piccola, quella di Gradisca di Sonsa. 7.000 abitanti. Anche lì capiamo che avere una comunità di 7.000 abitanti, 200 ospiti del CARA, che comunque sono in diminuzione rispetto ai 600 che nel passato quella comunità ha avuto, quella struttura ha avuto, capite che gestire una cosa del genere non è semplice, diventa una complessità da grande città. In più ci mettiamo vicino al CPR che ha altre problematiche, ma uguali complessità, per cui è chiaro che non possiamo pensare di affrontare un tema così complesso come l'immigrazione in maniera a spot, episodica, con la propaganda. Tenga presente che secondo l'impostazione che ha sempre dato il Presidente Federica, piuttosto che l'assessore Robati, piuttosto che anche qualche sindaco, vedi ad esempio, il sindaco di Gorizia, il pensare che perché sono nel CPR non si vedono e quindi non sono un problema, non vale, perché i problemi sono gli stessi. Tant'è vero che adesso vediamo che i problemi ci sono. E rischiano di avere anche un certo impatto, no? Certo, assolutamente. Tenga presente che il sindaco aveva chiesto, ok, il CPR, capisco, non condivido, ma capisco, ma almeno togliete il CARA di modo da togliere la pressione importante su questa città, rispetto a un tema che poi peraltro non vede neanche i progetti di integrazione, perché l'aver cancellato tutti i progetti SPAR e tutti i progetti di integrazione ha fatto sì che di fatto questi non facciano niente tutto il giorno. Francamente questo è credo che sia la cosa che dia più fastidio. È la cosa, secondo lei, peggiore. Restiamo nell'Izontino, ma spostiamoci per un attimo a Monfalcone. Torniamo a Monfalcone perché ne abbiamo già parlato nel caso del drone in dotazione alla polizia locale. Un'altra cosa che ha fatto molto discutere in questi giorni è la questione dei contributi alle associazioni. Il sindaco è stato accusato anche di voler mettere il bavaglio a certe associazioni, insomma che criticano in qualche modo l'operato dell'amministrazione comunale, poi si è difesa dicendo che tutto sommato ha rispettato un codice di comportamento voluto dal sindaco precedente e datato 2014. che cosa dice il PD su questo caso? Insomma, è vero, ha voluto mettere il bavaglio, secondo voi? Ma guardi, adesso le opposizioni sono intervenute e hanno esplicitato bene qual è la loro posizione, che condivido. Dire che si rispetta un codice di comportamento rivolto ai dipendenti nei confronti delle associazioni, anche voluto dall'altare nel 2014, ma quello riguarda i dipendenti, non c'entra nulla ai contributi che prendono l'associazione. I dipendenti dell'amministrazione, certo. Allora, quello non c'entra niente. Il sindaco con questa risposta veramente si è arrampicata sugli specchi. Uno, perché non è vero che quel codice di comportamento debba essere applicato alle associazioni. due, perché non esiste in nessuna parte del mondo che chi riceve un contributo non debba anche legittimamente esprimere un giudizio anche negativo nei confronti dell'amministrazione che ha concesso quel contributo. Poi non credo, insomma, riconosco al sindaco Cisint l'impegno e la determinazione e la conoscenza delle cose che fa. E sono convinto che lei sapeva di questo, perché non credo che nessun dirigente faccia un atto di questo tipo senza essersi confrontata con la parte politica. C'è il sindaco o l'assessore, ma conoscendo come lavora il sindaco, credo che abbia, insomma, era a conoscenza di quel lato lì. E ultima questione, veramente la più antipatica. Ecco il ruolo dell'ex sindaco Persi. Insomma, guardi, la ruola più antipatica è quella di aver tirato in ballo. L'ex sindaco Persi, che peraltro è persona seria, corretta, è da 18 anni presidente della banda, quindi è anche persona che, insomma, smessa la parte di impegno politico, si è dedicato alla comunità come presidente di un'associazione di volontariato. E pensare di accusarlo di aver strumentalizzato, di aver lanciato il sasso, nascosto la mano, trovo francamente anche questo di cattivo gusto. A me risulta che l'ex sindaco Persi abbia mandato una PEC segnalando al dirigente, quindi anche al sindaco, l'inopportunità di sottoscrizione di quel lato, ma addirittura nella sua replica al sindaco accusare Persi, dirgli di non fare più politica, dirgli che è scorretto, che ha ricevuto un contributo per le nuove divise e che quindi, visto che ha ricevuto il contributo, neanche fossero soldi direttamente del sindaco, sono soldi dell'amministrazione, che vengono dati a un'associazione, come ad altre associazioni, per l'attività che queste associazioni fanno all'interno della propria comunità. Quindi veramente siamo al limite dell'intimidazione e del ricatto, che francamente trovo esagerato. Qua siamo veramente in delirio di onnipotenza e onestamente dispiace, perché credo che si parla comunque sempre di un sindaco della quinta città della regione e credo che però abbia oltrepassato il segno. Quinta città della regione che, questa è una buona notizia, immagino avrà un termo valorizzatore per rifiuti liquidi. Ma guardi, io sono abituato a non parlare se non conosco la tipologia di progetto. Mi pare che, insomma, c'è questa richiesta di questa azienda di termo valorizzatore. Non conosco il progetto, quindi non mi permetto di giudicarlo. So che su altre questioni l'amministrazione la pensa in maniera diversa. Penso ad esempio alla reconversione della centrale A2A, che ad esempio, da quello che mi risulta, la prossima settimana il sindaco presenterà le idee progettuali dell'amministrazione. In quell'area mi pare che abbiano già definito alcune posizioni contrarie, però non conosco il tema. E' la prima volta anch'io che lo leggo, quindi non mi permetto di giudicare, di esprimere valutazione. Estremo a vedere, allora torneremo ad invitare il consigliere Moretti per eventualmente parlarne. Volevo concludere però con un dato politico, perché lei è anche segretario isontino del Partito Democratico e tracciando un po' il bilancio di fine anno e quello per l'avvio dell'anno nuovo, ha invitato il Partito Democratico isontino a ripartire dai sindaci che hanno avuto la rielezione o l'elezione nell'ultima tornata elettorale in vista della prossima. Come vi state muovendo? Guardi, il 2019 è finito con il fatto di avere spinto la spallata elettorale che la Lega ha tentato Stanzano e gradisca. E quindi da quel punto di vista per noi è stato un segnale importante. È chiaro che adesso c'è da ricostruire o c'è da ripartire tutto partendo dai territori, dagli amministratori, ma non solo, perché nel 2021 avremo tre rinnovi amministrativi importanti che sono quelli di Monfalcone, Grado e Ronchi Legionari, quelli più importanti, poi ci sono anche altri comuni che vanno al voto. Ed è chiaro che per noi in realtà dove adesso siamo all'opposizione credo che l'impegno non manca e anche il lavoro non mancherà perché il problema di recuperare un'azione, un'attività politica e amministrativa sui territori è per noi fondamentale perché a differenza di Salvini e della Lega noi non abbiamo oggi a livello nazionale un'immagine tale che fa da traino a quello che succede a livello locale. La Lega ce l'ha, fortuna dei leghisti che abitano qua, che vivono qua, anche se poi a livello comunale la gente ha dimostrato che decide in assoluta autonomia entrando nel merito delle questioni e delle valutazioni e dei giudizi amministrativi locali. Anche basati, come spesso accade, a livello locale, sulle persone assolutamente, quindi è chiaro che per noi questo è prioritario. La Lega, ripeto, ha un sottaino, noi non ce l'abbiamo oggettivamente e quindi dobbiamo lavorare più degli altri sul territorio per recuperare consenso perché credo che le capacità amministrative le abbiamo dimostrate e quindi abbiamo tutti i titoli per riprenderci un ruolo di un certo tipo. E' inutile nascondere, se lo immagino il nodo centrale resta Monfalcone, probabilmente. Beh, assolutamente, Monfalcone è importante. Quattro anni fa è stata una sconfitta peniativa, pesante, inutile negarlo. Dobbiamo cercare di recuperare, anche se non sarà facile, però ce la metteremo tutta. Allora, grazie al consigliere regionale del Partito Democratico, Diego Moretti, per essere stato con noi quest'oggi. e torni presto a trovarci, appunto, qui a Gorizia 7 per parlare di tutti gli avvenimenti, insomma, tutto quello che riguarda l'Isoltino. Grazie anche a voi che ci avete seguito e l'appuntamento con Gorizia 7 torna la prossima settimana, sempre alla stessa ora. Buon pomeriggio a tutti. Grazie.